Sia lode e gloria a te, Signore Dio mio. Carissimi fratelli, volevo ricordare a tutti la crociata di questa sera dal titolo Come spezzare i poteri dell'oscurità. Vi aspetto numerosi per pregare insieme anche per alcune persone che mi hanno chiesto guarigione per le loro malattie. È una crociata molto importante. Vi prego di intervenire e di essere numerosi. Lode e gloria a te, Signore Dio mio. Amen.